Di Dottor Apocalypse lunedì 21 maggio 2018 finalmente sposo L'eterno scapolo Hugh Grant, 57 anni e l'anagrafe, ha annunciato il fidanzamento ufficiale con la 39enne Anna Eberstein, produttrice televisiva svedese che l'ha reso padre per la terza e quattro gradi volta Le pubblicazioni inuziali sono state affisse presso il Chelsea Hall di Town Hall, municipio londinese A riportare la notizia il britannico The Sun Hugh e Anna fanno coppia da sei lunghi anni I primi due figli del vivo inglese sono nati dalla relazione con Ting Lanong, Tabitha, primogenita nata il 26 settembre 2011, e Felix, nato il 29 dicembre 2012 Per 13 anni, dal 1987 al 2000, Grant ha fatto coppia con Elisabeth Arley, tradita con una prostituta, per poi passare tre anni al fianco di Amy McCann Hugh e Anna sono diventati genitori nel 2012, ma dall'attore riconosciuto solo nel 2014 e nel 2015 A inizio 2018 si era parlato di una terza gravidanza dell'Eberstein e di un 5 gradi figlio in 7 anni per Grant, ad oggi mai confermata Fonte, DigitalSky vota l'articolo, nessun voto Potresti essere tu il primo, diritti d'autore foto get images tutti i diritti riservati i video del canale donna Quattro Poi Non Non